ciao amici oggi mi sono voluto fare un regalo e lo voglio aprire insieme a voi la lumix fz 38 marina fotografica così si fa i video in hd guardiamo cosa c'è dentro la pilla la macchina fotografica bella una bridge stereo hd la figlia il filtro con la sole e il tappo dell'obiettivo il carica batterie i cd e il libro i cavi per la televisione per scaricare le foto e il capo della panetta adesso carico e nei prossimi giorni vi faccio vedere un po di video e di foto ciao